Gli ultimi saranno gli ultimi, uno spaccato di contemporaneità. Hai portato sul grande schermo i vinti, l'Italia dei vinti. Ho provato a trasportare un monologo teatrale che avevo scritto tanti anni fa per Paola Cortellesi e abbiamo insieme a Paola deciso di scrivere insieme la sceneggiatura. È stato un grande percorso perché abbiamo capito che in questi dieci anni è cambiato ben poco per il mondo delle donne e del lavoro e quindi è stata un'avventura, una sofferenza girare insieme questo film, sofferenza in senso positivo perché abbiamo vissuto un po' le vicissitudini di Luciana, di questa nostra protagonista che gliene accadono di tutti i colori. È giusto, credo, ogni tanto parlare degli ultimi, parlare di quelli che non ce la fanno ad arrivare a fine mese, che non ce la fanno a vivere una vita dignitosa se non scendendo a patti con qualcosa che non gli piace e quindi sono veramente molto orgoglioso di aver fatto questo film. Grande sintonia, grande feeling con Paola Cortellesi appunto che in questo caso è un'anti-eroina. È un'anti-eroina perché è una, come si suol dire, una poveraccia, è una che tenta dignitosamente di vivere fino a un certo punto, poi perde il lume della ragione, prende una pistola in mano e prende in ostaggio i capi della sua azienda, qualcosa che chiaramente non va affatto nella vita normale, quindi raccontiamo un caso estremo, però è esattamente l'anti-eroina perché fa qualcosa di malato all'interno di una società malata. Alla buona volontà non sempre corrisponde un risultato, questo è anche uno dei messaggi. Sì perché c'è tutto un mondo intorno che corre in un verso, quindi o ti adegui a correre a quella velocità e in quel verso oppure rischi di andare controcorrente in qualche modo di, a Roma si dice, di perdere la brocca, che gli è partita la brocca, si dice così a e quindi bisogna in qualche modo cercare di adeguarsi per sopravvivere. Quando non ti adegui devi essere molto forte per cercare di cambiare le cose. Come è stato lavorare la trasposizione cinematografica appunto dello spettacolo teatrale firmato da te? È stato complicato perché nel teatro si svolgeva tutto in una notte, mentre invece nella sceneggiatura cinematografica abbiamo dovuto raccontare i nove mesi della gravidanza della nostra protagonista, quindi il film inizia da quando lei rimane incinta più o meno fino a quando partorisce. Quindi è stata sostanzialmente una riscrittura totale del testo con delle aggiunte di personaggi, con dei cambiamenti notevoli, soprattutto il più grande cambiamento è che la Cortellese in teatro faceva tutti i personaggi, interpretava tutti, perché era un monologo dove lei dava vita a nove caratteri completamente diversi. Nel film abbiamo per fortuna avuto la possibilità di prendere degli attori meravigliosi come Alessandro Gasman e Fabrizio Bentivoglio, ma tanti altri più giovani oppure meno giovani ma alla prima esperienza cinematografica ed è stata una grande bella esperienza. Progetti per il futuro, a che cosa stai lavorando adesso? Ho finito da poco di scrivere il mio prossimo film, è una commedia, è divertente, torno più o meno sui binari di Nessuno mi può giudicare, è il mio primo film, quindi è una commedia divertente che ha uno sfondo sociale e che in qualche modo credo che farà divertire il pubblico. Non so ancora quando potrò girarlo, spero in autunno, quindi spero l'anno prossimo di essere ancora al cinema oppure al massimo fra un anno e mezzo.